Siamo da Marenco a Strevi, nella vecchia cantina di produzione del Moscato. Qui ci sono i sacchi olandesi e adesso Andrea Costa ci spiegherà che cosa servivano, quindi come si faceva prima il Moscato e come si fa adesso. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Laura e agli amici di Slow Food, grazie per questa domanda che ci fa sempre piacere. Cosa servono questi sacchi? Diciamo che servono a continuare il percorso che abbiamo iniziato tanti anni fa di valorizzazione del Moscato di Strevi, che come sappiamo è una delle menzioni geografiche all'interno del Moscato d'Asti, perché Strevi è una delle zone più vocate e più tradizionali per la produzione di questo vino. Noi Marenco qui siamo nati e qui facciamo con orgoglio e passione due vini Moscato d'Asti, lo Strevi che è una selezione dei nostri vigneti e la Scrapona che è una singola vigna che poi magari andiamo a visitare e che dà un Moscato particolare e buonissimo. Perché valorizzazione? Perché questo ci aiuta a ricordare da dove siamo venuti, perché il Moscato è un vino talmente buono che già 200 anni fa avevano capito che per fare questa esplosione di profumi terpenici primari del Moscato era preferibile interrompere la fermentazione, quindi avere un mosto parzialmente fermentato, in modo che i profumi di fermentazione non prevalessero sui profumi primari. Oggi è fattibile con la tecnologia, una volta era fattibile grazie a questi filtri. Questo è un ingegno della tecnica enologica di qualche centinaio di anni fa, ai mosti venivano messi in queste vasche di cemento che era il posto più fresco presente in cantina, ma non freddo abbastanza da tenere ferma l'attività dei lieviti, quindi man mano che il vino iniziava a bollire, l'enologo, il vigneroni, il contadino o il viticoltore del tempo iniziava la filtrazione, quindi veniva fatto passare semplicemente il vino attraverso questi sacchi che hanno un tessuto speciale in grado di trattenere parzialmente le sostanze azotate che sono necessarie ai lieviti per fermentare, quindi il vino si calmava e veniva messo in vasca. Questa operazione veniva ripetuta ogni settimana per 8-10 settimane, un po' prima di Natale il moscato veniva messo in bottiglia e spedito ai clienti, era un vino favoloso, ovviamente non aveva la stabilità del moscato di oggi, la tecnologia ci aiuta semplicemente, oggi facciamo il moscato allo stesso modo, semplicemente con filtrazioni migliori di queste riusciamo a avere la garanzia di eliminare completamente i lieviti dal nostro vino e quindi poterlo spedire e avere il vino a una dorata superiore. Però, ecco, questo ci teniamo, è un vino di tradizione, il moscato d'asti di strevi che merita tantissimo, ha molto più potenziale di quello che ogni tanto ci si aspetti perché è così buono con il panettone che si tende a volte a mangiarlo solo, a berlo solo con il panettone, cosa verissima, è un vino fantastico con tutta la pasticceria, ma il moscato di strevi, il moscato marenco è un vino che si abbina benissimo a tante occasioni e poi ha anche un bel potenziale di invecchiamento. Anche questa è una cosa che stiamo scoprendo man mano, noi stiamo mettendo via un po' di bottiglie per rilasciarle al consumatore 5, 6 ma anche 10 anni dopo la vendemmia perché è veramente un vino che ha del potenziale di invecchiamento fantastico. Noi, come dicevo, come azienda facciamo il moscato d'asti, facciamo il brachetto d'acqui che per noi è fondamentale, un vino importantissimo, bellissimo e unico al mondo, fatto dolce a 5 gradi con il tappo raso come il moscato, poi facciamo la barbera d'asti su cui stiamo investendo tantissimo, abbiamo i vigneti a Fontanile e a Castelboglione. I nostri vigneti, novità di quest'anno, concludiamo un percorso di avvicinamento al biologico, quindi da quest'anno il 100% dei nostri vigneti ed è un passo fondamentale, è in conversione o già certificato a biologico perché abbiamo iniziato nel 2015, quindi una piccola parte è già certificata, ma nel giro di 4 anni tutta la nostra produzione sarà certificato bio e la Scrapona 2021, il nostro moscato in bottiglia oggi che verrà assaggiato dai degustatori di Slow Food è già certificato biologico, è una parte del nostro percorso ma andiamo a vedere in vigna per far capire meglio, spiegare meglio quello che stiamo facendo. Allora, un salto in vigna è doveroso, è importante, qui siamo dietro di me, la Scrapona, quindi il nostro vigneto da cui facciamo il moscato d'asti Scrapona, che viene solo con le uve di questa vigna qua, dietro non la potete vedere ma c'è Pineto che è un bellissimo anfiteatro in cui facciamo il bracchetto, ma quello che è importante è che riconducendoci a quello che dicevamo in cantina è il nostro percorso verso la sostenibilità, quindi la certificazione biologico che non è la sostenibilità ma è un tassello verso la sostenibilità secondo noi, sostenibilità che prima di tutto parte da voi, diciamo da chi il vino lo apprezza, perché siete voi che ci date la potenzialità, la forza di poter lavorare bene in vigna perché chiaramente fare sostenibilità ha un costo ma il risultato lo si può vedere, nel senso vigneti inerbiti, un assoluto equilibrio, una sostanza organica importante nel terreno che torna a crescere dopo anni di impoverimento e una serie di tasselli che non ci staremmo sicuramente in sette minuti ma che possiamo sicuramente scoprire insieme per chi è interessato a venirci a trovare o a contattarci, per noi è fondamentale questo passaggio. Giunti alla degustazione, come dicevamo noi abbiamo un'anima aromatica con il moscato, la scrapona, la scrapona collezione, il brachetto, il pinetto che per noi è fondamentale, quello che ci tenevo a dire per raccontare Marenco è che abbiamo anche nel nostro sangue scorre la barbera, già negli anni 70 mio nonno ha comperato a Fontanile per fare barbera d'asti, abbiamo una barbera classica, una barbera superiore, abbiamo due vitine autoctoni con DNA barbera che sono il caricalasino e l'alba rossa e novità con cui usciremo presto, usciremo con un nizza, nizza importante che produciamo in un crew a Castelboglione e quindi vi aspettiamo per assaggiarli.